benvenuti al nostro tg sport cari amici di tele molise in apertura vogliamo fare gli auguri a daniele filippone un ragazzo che conosciamo da tanto tempo che che appunto è stato sempre un ragazzo studioso bravo e quindi gli vogliamo fare gli auguri perché ieri si è laureato naturalmente con il massimo dei voti in economia aziendale presso l'università del molise ha discusso una tesi sulla statistica per le decisioni relatore il professor luca romagnoli a daniele che come dicevo conosco da tanto tempo ai genitori maria e lorenzo la sorella federica ai nonni domenico vittorio anna e antonietta vanno le felicitazioni più sincere naturalmente da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di tele molise auguri daniele e naturalmente in bocca al lupo per la vita calcio di serie d test in famiglia a boiano per il campo basso mister farina sta preparando la gara interna con il castelfidardo dopo tre pareggi consecutivi obiettivo vittoria per il rosso blu si avvicina grandi passi la nona di andata nel girone f della serie d scorgendo il turno si può chiaramente vincere come il match clou sia san nicolò san benedettese alla squadra teramana il compito di fermare la corazzata marchigiana che comunque nell'ultima uscita in esterno ha palesato qualche difficoltà perdendo agli esi sarà pure la domenica del test a coda tra pesaro e maceratese sulla carta il pronostico parla senza mezzi termini a favore della capolista ma occhio ai derbi che sono sempre partite insidiose sulla carta senza troppe speranze la trasferta del celano a civita nova marche di nuovo in casa il matelica stavolta contro il chieti almeno alla vigilia la gara appare equilibrata per il matelica così come lo è stata contro il campo basso proprio i rosso stanno preparando con dovizia di particolari la partita interna contro il castel fidardo che non è una squadra che naviga in buone acque di classifica ma più in generale sta trascorrendo un momento davvero pessimo la squadra di ruggeri infatti viene da ben quattro sconfitte consecutive nelle quali ha fatto scalpore la sconfitta interna per 6 a 2 contro la civita novese nel corso degli ultimi 4 ko consecutivi la squadra marchigiana ha incassato ben 10 gol segnandone soltanto due nella già citata partita persa sonoramente si pensi che nelle complessive otto giornate il castel fidardo ha preso 11 gol se la matematica non è un'opinione vuol dire che una netta metamorfosi in senso peggiorativo i marchigiani l'hanno accusata nelle ultime quattro partite gli unici a perforare gli anconetani nei primi quattro turni di campionato sono stati granata dell'olimpia agnonese insomma a selva piana non arriveranno dei fulmini di guerra ma il campo basso dovrà tenere la guardia altissima anche perché le recenti esperienze insegnano che avversari troppo molli non esistono lo stesso pesaro ora ultimo della classe eppure ha tenuto in apprezzione il campo basso farina lavora con tutti gli effettivi tranne monti e fusaro compresi gli squalificati marinucci e todino che domenica vedranno la partita dalla tribuna già studiati i possibili cambi ma soprattutto i papabili giocatori da inserire nel ruolo di trequartista tra questi candidati principali sono pani e vitelli certo dal primo minuto l'impiego di fazio riproponibile la difesa con tre giocatori anche perché tanto per citare un esempio un giocatore come dragone ha dimostrato una netta tendenza offensiva a matelica piuttosto che una predisposizione pure alla difesa tutte valutazioni che sta facendo farina domenica in tribuna per scontare la seconda delle tre giornate di squalifica attenzione alle diffide che possono tramutarsi in squalifiche rischiano minadeo scudiere e dragone tre pedine importanti che non possono permettersi di essere ammoniti anche perché alle porte c'è il big match in casa della maceratese in programma il prossimo 9 novembre una curiosità che accomuna le due squadre maceratese campo basso che almeno per ora non annoverano grossi cannonieri nella classifica marcatori i più prolifici sono di genaro e miani nel campo basso con tre gol all'attivo gli stessi li ha fatti d'antoni della maceratese abbastanza distante il principe dei marcatori del girone F Giovanni Amodeo a quota otto gol fatti amichevole in famiglia anche per l'olimpia agnonese Donatelli per il match di Iesi potrà contare su Santoro che rientra da un infortunio Iesina squadra decisamente ostica reduce da due vittorie consecutive in altre tanti derby contro San Benedettese e Castelfidarto domani dovrebbe arrivare il transfert di Stanley a Ibe per il Termoli terza gara nel Molise dopo il successo nel derby del Civitelle domenica al Cannarza arriva la Re Canatese due squadre che hanno bisogno di punti per risalire la graduatoria a proposito degli Adriatici il capitano Ruggeri che salterà per la squalifica i 90 minuti di domenica Capitano Ruggeri una vittoria importante per il Termoli comincia qui il campionato del Termoli? Sì è una vittoria che dà morale perché venivamo da tante sconfitte dove secondo me non meritavamo neanche però venivamo da tante sconfitte oggi è stata una partita difficile perché abbiamo trovato un agnone compatta dove ha creato diverse palle goal noi siamo stati lì bravi subito a sventarle e poi alla fine siamo riusciti a far goal è una vittoria che ci dà morale soprattutto per il consiglio del campionato e ripeto ci dà morale per i sacrifici anche per quello che stiamo facendo soprattutto per quello che sta succedendo a livello societario però noi ragazzi siamo consapevoli che alla fine dobbiamo dare tanto in campo per non trasportarci i problemi societari Ecco domenica c'è uno scontro importante a Termoli arriva la Re Canatese Sì è una Re Canatese di ottimo livello perché conosco tanti giocatori che sono all'altezza e come ho visto nel recupero mercoledì ha giocato una buona partita contro il Campobasso oggi non so che ha fatto però sicuramente noi con questa vittoria che ha dato morale saremo sicuramente concentrati e daremo fino ad adorcere A proposito delle formazioni del Girone F il Fano è l'unica squadra che ha proseguito l'avventura in Coppa Italia i marchigiani negli ottavi affronteranno la Correggese prevista gara unica il 19 novembre in Emilia Romagna e a proposito delle formazioni Juniores ieri c'è stato il turno infrasettimanale ancora un pareggio per il Campobasso di Mister Rienzo 1 a 1 ha scoppito contro la Miternina netta la sconfitta del Termoli a Manfredonia 5 a 0 1 a 1 a Chieti della Juniores dell'Agnone Atletica sono aperte le iscrizioni alla 41esima edizione della Sue Giù in programma il 9 novembre il gruppo sportivo Virtus ha stabilito che fino al 5 novembre il costo di partecipazione è di 6 euro dal 6 all'8 novembre di 8 euro mentre il giorno della gara di 12 sul sito del gruppo sportivo Virtus i punti di iscrizione a proposito della manifestazione ai nostri microfoni Francesco Palladino Francesco Palladino il 9 novembre è una data importante per voi e per la città di Campobasso e non solo perché si corre la 41esima edizione della Sue Giù numeri importanti per voi senza dubbio arrivare a 41 edizioni per una manifestazione come la nostra che vive di gente che fa del volontariato la sua ragione è un obiettivo molto bello che però non ci preclude di continuare nel futuro quest'anno è la 41esima edizione come hai detto ci aspettiamo grandi cose, grandi numeri, partecipazioni, una festa per tutti soprattutto per i ragazzi ma quest'anno anche per i nonni dato che la Sue Giù di quest'anno è appunto dedicata a loro 8 km da correre ma anche semplicemente per fare una passeggiata e per riscoprire anche la città perché ricordiamo in questo tragitto si attraversa il centro storico di Campobasso il campo Nicola Palladino quindi una giornata veramente da trascorrere con spensieratezza sì, lo scopo principale della Sue Giù è essenzialmente quello far provare un'emozione di sport così un'idea di sport a chi normalmente non lo pratica quindi benvengano gli atleti ma soprattutto benvengano tutte le persone che vogliono anche semplicemente passeggiare e come detto tu riscoprire degli angoli di Campobasso che a volte sono lasciati un poco in ombra quindi il centro storico, la foce che è il punto storico dove i nostri nonni andavano a fare le scampagne dei domenicali e naturalmente il campo scuola che è dedicato alla figura di Nicola Palladino un dirigente chiave per la nostra società Ogni anno i numeri della Sue Giù per quanto riguarda proprio i partecipanti crescono, l'anno scorso siamo giunti circa intorno a più di 6.000 iscritti testimonianza che una gara amatoriale assolutamente non competitiva però riesce a creare quell'entusiasmo giusto per poter trascorrere una domenica diversa Il segreto penso è proprio quello perché fare una gara competitiva non si raggiungerebbero quei numeri perché la gente che vuole partecipare alla Sue Giù lo vuole fare per festeggiare quindi alle feste si sa che ci sono sempre imbucati ci sono sempre persone che vogliono partecipare a tutti i costi e quindi vediamo bambini, anziani, animali, carrozzine, di tutto perché noi vogliamo appunto che sia una gara di tutti Basket Divisione Nazionale B Lisenna sta preparando la trasferta di Maddaloni la formazione molisana sapeva di affrontare un avvio di stagione in salita vista la giovane età del roster a proposito della squadra abbiamo intervistato uno dei giocatori Antonio Brighi ancora non arriva la vittoria in casa Globo cosa sta succedendo? C'è una squadra che ancora deve imparare a giocare insieme? Sì sicuramente deve imparare a giocare meglio insieme però c'è da dire anche che come prime squadre che abbiamo affrontato abbiamo affrontato delle squadre molto più preparate di noi con molta più esperienza adesso noi stiamo lavorando per essere più costanti con l'intensità perché abbiamo degli alti e bassi però non possiamo permetterci La prossima trasferta a Maddaloni, campo campano quindi sicuramente difficile sulla carta come dovrebbe essere? Come te l'aspetti? Sulla carta partiamo sempre un po' più svantaggiati perché appunto siamo tra i più suoni e tra i meno, non so, con meno esperienza e là hanno detto che è un campo molto caldo e noi andiamo là e ce la giochiamo e andiamo con la mentalità di provarla a portare a casa Calcio regionale stasera a Castropignano si svolgerà la festa del calcio molisano organizzata dalla FIGC Molise l'appuntamento è per le 19.30 il presidente Piero Di Cristinzi e il suo staff premieranno le società vincenti i campionati e la Coppa Disciplina della stagione 2013-2014 dirigenti, giocatori e gli arbitri che si sono distinti nel corso della passata stagione a proposito del calcio giocato ieri si sono disputate le gare di ritorno degli ottavi di Coppa Italia a vincente il derby dell'Ancellotta tra Isernia e Venafro vinto dai locali Il sapore di una vittoria conquistato in un derby che vale il pass per i quarti di Coppa Italia ha un gusto dolce a l'Ancellotta ieri l'Isernia ha ospitato il Venafro il finale 2-1 in favore dei Bianco Celesti che nei quarti andranno ad affrontare il Pietramonte Corvino per la cronaca ieri la gara si è aperta al 13esimo con il rigore concesso da Dinanno di Campobasso per un fallo di Galardi dagli 11 metri Patriciello ha portato in vantaggio gli ospiti la risposta dell'Isernia è arrivata dopo 20 minuti quando Buonanno prima si procura e poi realizza il rigore del pareggio all'andata al Marchese del Prete di Venafro decise il gol del capitano ieri ancora una volta a Paneico al 75esimo ha chiuso i giochi sul 2-1 a proposito degli altri accompiamenti il Macchia di Isernia affronterà la gioventù Dauna il Treppini Sporting Matese e il Vasto Girardi e l'Olimpia Riccia il sesto Campano a proposito degli Isernia ai nostri microfoni il portiere Mocci Nicola Mocci un primo tempo un po' travagliato diciamo così se non fosse per i primi dieci minuti di gioco in cui avete sciupato qualcosina di troppo poi insomma avete trovato il piede giusto Sì infatti abbiamo sciupato qualche cosa nel primo tempo siamo andati in svantaggio sfortunatamente sul calcio di punzione c'è stata una deviazione poi vabbè siamo riusciti a ribaltare la partita con un cuore grinta e determinazione Quando pensi abbia influito l'espulsione di Pippo Guadagno sull'esito della gara? È un grande giocatore Pippo e abbia influito assai questo ha terminato gran parte del secondo tempo il gioco e infatti siamo stati superiori nella seconda parte Domani sarà giornata di rifinitura per Iserni e Gioventù Dauna le due capoliste di eccellenza che si affronteranno a casa nuovo Montero Taro per la vetta della classifica previsto il pubblico delle grandi occasioni con i tifosi bianco celesti pronti a mettersi in viaggio per sostenere la squadra di De Bellis Il Venafro con 90 minuti in più nelle gambe domenica sarà ospite del Gambatesa la squadra bianco-verde è galvanizzata dalla vittoria di Nuova Cliternia ne abbiamo parlato con Bianco Antonio Bianco gran bel gol importante ma coronamento di una prestazione eccellente la tua secondo gol stagionale è servito soprattutto per mettere le cose in chiaro cioè che praticamente la partita l'avete voi in pugno Sì, siamo stati un po' a terra all'inizio abbiamo subito subito il gol però poi ci siamo ripresi ho fatto un lisciato la palla su una zolletta e Lorenzo l'ha segnato sono contento per lui Senti, hai realizzato un gol due le ha fatti Del Rey ti sei inteso tantissimo lì in avanti sia con Del Rey che con Ottaviano Sì, Del Rey è velocissimo un ragazzo proprio bravo è forte, forte davvero secondo me può militare anche in altre categorie ho fatto un bel gol lo dedico al mio amico Gabriele Giambi per il suo compleanno e ringrazio anche la squadra Senti, senza quel gol iniziale forse sarebbe stata un'altra partita Può darsi avrei potuto fare anche un altro gol ho spiegato un'altra occasione ma penso che sia andata bene Un po' di morale in classifica soprattutto vi dà vitalità questo gol soprattutto per guardare con serenità il futuro Sì, possiamo fare ancora di meglio ci possiamo verso la salvezza noi ci crediamo sempre l'obiettivo come ha detto il mister è raggiungere 39 punti e ringrazio sempre il presidente che mi ha fatto venire qui con loro Senti questa griternina come l'hai vista? Sono bravi l'11 era velocissimo hanno fegato sanno lottare nel campo Palla a volo femminile Under 18 questa sera alle 19 presso la palestra dell'Itas Pertini di Campobasso la SD Volley Campobasso ospiterà la formazione del Cus Molise quest'ultima gara in programma per la seconda giornata di campionato la SD Volley Campobasso è una società nata quest'anno che ha puntato sulla collaborazione infatti il tecnico Catullo ha guidato anche il Boiano sul nuovo team proprio il coach Antonio Patullo dunque responsabile dell'Under 18 femminile della SD Volley Campobasso dunque una nuova esperienza con una nuova società come è arrivato a questa forma di collaborazione? C'era l'amicizia la conoscenza con Gennaro Niro siccome nella nostra io faccio parte anche di un'altra società Boiano SD Boiano Volley quest'anno non avevamo il numero per poter affrontare questa esperienza e abbiamo chiesto la collaborazione di Gennaro che ci ha messo a disposizione un po' anche lui altre atlete di Riccia e così insieme abbiamo cercato di non togliere la possibilità alle nostre atlete di poter giocare quindi insomma c'è una sorta di gemellaggio dobbiamo dire tra queste due collaborazione che è un progetto che è iniziato quest'anno che spero che si possa prolungare anche nei prossimi anni dunque diciamo a livello di settore giovanile com'è insomma la situazione attuale della Pallavolo naturalmente per quel che riguarda la nostra realtà il Molise il numero è sceso di tantissimo prima avevamo la possibilità di lavorare su grandi numeri adesso se non adottiamo questo sistema di collaborazione con altre società anche perché la Società del Vole Campobasso opera su un settore dove ha un bacino molto più ampio e grazie a loro che noi appoggiandoci a delle realtà già che hanno un'esperienza molto più lunga della nostra possiamo avere la possibilità di poter sviluppare e realizzare questo progetto Campionato di promozione 15 punti in chiave salvezza per il Campo di Pietra che ad oggi occupa la seconda posizione Marro e Cretella ai nostri microfoni Marco Marro del Campo di Pietra una vittoria meritata ma sofferta sì è stata una battaglia durissima come è sempre quando incontriamo Cerce Maggiore ogni anno è sempre un'ottima squadra difficile a battere siamo partiti anche abbastanza bene poi abbiamo preso questo gol a freddo poi fortunatamente un po' con la fortuna un po' con la capabilità siamo riusciti a ribattere il risultato ecco 15 punti 4 vittorie e 3 pareggi la squadra resta imbattuta da inizio campionato rispetto all'anno scorso un ottimo trend sì sì questo è un gruppo che sta insieme da 3 anni due anni fa abbiamo fatto un ottimo campionato rischiando di vincere fino all'ultima giornata lo scorso per vari motivi abbiamo lottato per la salvezza però quest'anno stiamo prendendo delle belle soddisfazioni noi comunque puntiamo alla salvezza anche quest'anno poi ovviamente se prima arriva prima possiamo puntare altri obiettivi ecco come tutti gli anni anche quest'anno il campionato di promozione è un campionato molto equilibrato secondo te chi saranno le pretendenti a salire quest'anno non esistono partite facili sono tutte durissime diciamo c'è lo spinete che è una sorpresa però sta dimostrando di meritare il posto di prima in classifica c'è il monte nero pietra monte corvino il macchia ci sono almeno 6-7 squadre che possono vingerlo tranquillamente per il campo di pietra invece? il campo di pietra come ho detto pensiamo prima a salvarci e poi speriamo anche noi se tutto va bene Luca Cretella del campo di pietra una vittoria sofferta fino alla fine eh sì una vittoria sofferta fino alla fine però merito al campo di pietra che anche in 10 ha lottato fino all'ultimo e ha trovato questi tre punti fondamentali tre punti fondamentali infatti che vi fanno comunque stare lì nelle zone alte della classifica rispetto all'altro anno comunque un inizio più che positivo sì sì senza dubbio abbiamo iniziato a nellare queste vittorie siamo ancora imbattuti diamo l'anima per tutti i 90 minuti sappiamo di affrontare squadre del nostro livello il campionato è questo anche se alla lunga usciranno le squadre vedi Montenero a mio parere macchia petacciato ecco però noi stiamo lì sopra ci godiamo il momento ci alleniamo duramente in settimana e cerchiamo di vincere la domenica diciamo che è una squadra anche navigata tra voi vi conoscete e giocate anche da qualche anno insieme sì questo è il terzo anno che giochiamo tutti insieme con il mister civico e il gruppo è rimasto tale e quale abbiamo preso i tripodi e i lombardi che ci hanno fatto fare il cosiddetto salto di qualità sapevamo di essere una buona squadra però noi dobbiamo mantenere i piedi ben saldi a terra perché sappiamo che il camminato è lungo e noi dobbiamo salvarci sarà ritorico ma è così non siamo partiti con ambizioni di vittoria però stiamo vedendo che domenica dopo domenica questo campo di pietra sta risentando ad essere una squadra tosta per tutti prossimo incontro in trasferta il Real Prata ha avuto modo di vedere la squadra che partita ti aspetti sicuramente quando si va a giocare in questi campi sappiamo che sono squadre anche loro toste in casa fanno i loro campionato noi andremo come sempre a giocarcela senza aver paura di Prata che comunque va rispettato è una matricola però credo che comunque ha elementi di spessore giudo sabato a Montenero di Pisaccia presso il Palasport Comunale si svolgerà il dodicesimo trofeo nazionale Memorial Luciano Ortolano organizzato dal centro nazionale sportivo Libertas la manifestazione di rilevanza nazionale nel settore delle arti marziali prenderà il via subito dopo le operazioni di verifica peso quindi per le ore 10 bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio per la